Anche poco fantasiosa perché basta girare per il sud e rendersi conto che sicuramente è molto più bisogno di ferrovie ad esempio Buongiorno, sono Jean Faber Masconi oggi, il 2 ottobre, come si dicevo. Volevo dire che secondo me i vigi urbani comunali in Italia andrebbero disarmati cioè si dovrebbe togliere la pistola di ordinanza a differenza di polizia e carabinieri perché a differenza di polizia e carabinieri non hanno giuridicamente i compiti che polizia e carabinieri hanno dato che dipendono dal comune e non dallo stato allo stato italiano e questa è una prima cosa una seconda cosa è che io quando sono stato matto da psichiatra nel 94 perché avevo previsto un attacco nucleare russo con un miliardo di morti in relazione alla guerra in Jugoslavia e l'avevo detto qui in paese nel 94 l'avevo detto al master da Venezia è stato matto da psichiatra e lo psichiatra mi ha diagnosticato una sindrome bipolare e quindi mi davano una pastiglia al litio io non ho nessuna sindrome bipolare solo che io ci ho creduto non lo sapevo il medico mi ha detto che avevo questa sindrome bipolare ogni giorno prendeva una pastiglia di litio quindi ha fatto una diagnosi sbagliata per motivi politici questa storia è andata avanti per anni poi volevo dire che il compito principale del politico e fare il politico in un'attività estremamente complessa è quello di individuare le priorità nel senso che bisogna capire quali sono le priorità per il sindaco nel comune per chi è in provincia in provincia per chi è in regione in regione per chi è a Roma a livello nazionale europeo per chi è a Bruxelles a livello europeo e globale quindi il politico prima cosa come cosa immediata deve individuare una priorità quindi se io io mi posso lamentare l'esempio della guerra in Siria ma è chiaro che la guerra in Siria tutto il più se sono un europeo un italiano mi porta dei profughi non mi porta una guerra in Europa se però succede una guerra in Jugoslavia la priorità non è tanto quella solo dei profughi della guerra in Jugoslavia del 1995 ma che la guerra in Jugoslavia si allarghi in Europa come è sempre successo storicamente quindi quando io ho previsto un attacco nucleare russo nel 1994 era perché la priorità in relazione alla guerra in Jugoslavia che la guerra in Jugoslavia nel 1994 sarebbe che non si allargasse l'Europa quindi io nel 1994 sono stato insomma ho fatto una buona analisi politica perché ho individuato una priorità parecchi politici di oggi non sono capaci di capire le priorità le priorità a livello europeo a livello italiano a livello provinciale e a livello comunale poi ve lo devo dire una cosa sulle idee sulle idee importanti in politica qui a Falloppe abbiamo fatto dei disastri prima abbiamo fatto dei disastri con le cave c'era un eccesso di numero di cave di sabbia nel 1984 al 2000 circa e poi hanno costruito case popolari veramente brutte in numero eccessivo perché c'erano le cave e perché hanno costruito poi le case popolari perché portano gli introiti dal comune cioè il comune di Falloppe per stare in piedi economicamente prima avevano gli introiti dalle cave quando non ci sono state più le cave hanno dovuto costruire hanno dovuto costruire le case cioè hanno dovuto costruire le case popolari per avere gli oneri di urbanizzazione ora se fosse stato un politico con delle buone idee a Falloppio avrebbe tirato delle aziende a Falloppio sul suolo di Falloppio non avrebbe fatto un dar via come la leutenda perché se fossero state attirate delle buone aziende sul suolo di Falloppio gli introiti dal comune di Falloppio sarebbero derivati dalle aziende e non dall'organizzazione delle case popolari in eccesso costruite in eccesso a Falloppio quindi questo è un esempio di come le idee siano importanti e di come giustamente ha detto Mervyn King l'ex banchiera centrale inglese è che prioritariamente la crisi degli ultimi 30-20 anni è una crisi di idee anche se io non sono totalmente d'accordo con lui che dice che non è una crisi bancaria non è una crisi manufatturiera è anche una crisi bancaria e manufatturiera però soprattutto non è una crisi di idee grazie, arrivederci grazie a tutti grazie a tutti